Un atto intimidatorio. Non hanno dubbi gli agenti del commissariato di polizia di Nardò sulla matrice dell'incendio che alle 2 circa del mattino ha distrutto la Fiat 500 nuovo modello di Paola Mita, 32 anni, sindacalista, dirigente dell'UGL. La donna aveva parcheggiato l'auto in via Fleming nei pressi della sua abitazione in Eretina e a quell'ora della notte dormiva insieme alla sua famiglia. Sono state le fiamme a svegliare, lei e l'intero vicinato, l'auto era avvolta dal fumo e dal fuoco, all'arrivo dei vigili, era già distrutta. Le indagini sono scattate immediatamente, sul posto non sono state trovate tracce di contenitori con liquido infiammabile, ma la natura dell'incendio lascia pochi dubbi e sicuramente di origine dolosa. Non ci sono testimoni né telecamere né vicinanze, gli agenti stanno ascoltando i diretti interessati per cercare di capire il movente dell'attentato, fatti che riguardano la vita privata della donna o riconducibile la sua attività sindacale. Non hanno dubbi su quest'ultima ipotesi, i dirigenti territoriali dell'UGL si tratta dell'ennesimo atto intimidatorio nei confronti dell'UGL, commenta il segretario Antonio Verardi e si chiede quale sarà l'epilogo di tutto questo. Già in passato le minacce e le intimidazioni avevano colpito l'UGL direttamente impegnata nelle vertenze sui cosiddetti schiavi del fotovoltaico. E non solo, lo stesso Verardi qualche mese fa aveva ricevuto una busta con dei proiettili. Grazie